Siamo nel pieno della stagione estiva, ad Ardesio come sta andando? Ma allora devo dire che sta andando proprio bene perché una stagione estiva con i fiocchi non pensavamo magari neanche che potesse diventare una stagione così importante invece proprio magari l'impegno e gli sforzi anche di comunicazione che stiamo facendo per Ardesio stanno dando i loro frutti perché davvero sono tantissime le presenze che abbiamo anche soprattutto nelle nostre frazioni soprattutto nella nostra Val Canale che è la nostra meta turistica più importante quindi quello è importante e soprattutto per quanto riguarda le nostre montagne che sono state prese d'assalto anche quest'anno perché sono stati quasi 400 ad oggi i passaporti consegnati dall'ufficio turistico con la prima timbratura e questo quindi ci fa ben sperare. Abbiamo avuto anche presenze dall'est Europa quindi anche presenze non solo italiane ma anche diciamo fuori di nazione e anche un dato importante, una curiosità, una turista canadese da sola è arrivata ad Ardesio per fare il sentiero d'anello dell'Europa e quindi davvero ringraziamo la Promoserio e il CAI di Bergamo che hanno sposato con noi questa iniziativa dal passaporto che ci sta dando degli ottimi risultati e quindi questo è molto importante per il nostro territorio e poi ovviamente anche ringraziare la Proloco di Ardesio e tutte le Proloco delle nostre frazioni che stanno facendo un lavoro di organizzazione di eventi davvero straordinario perché credo come non mai Ardesio quest'estate ha avuto una presenza di eventi davvero molto significativa e molto importante. Quindi avanti così, estate 2022 per ora direi che si può dire molto molto soddisfacente ora aspettiamo l'ultima parte di agosto e vediamo poi con il settembre se sarà un buon settembre credo che anche i numeri su settembre saranno molto importanti